Sì, è una possibilità non più che una buona, più che una buona paura diciamo E vedi che è un incontro, non appena vuole, I guess Come va, va, secondo voi che un'intervista dentro, no, abbiamo sentito questa espressione No, bisogna avere una struttura Sì, è stato il 2002 e c'era questa possibilità a questa occasione di partecipare al Zotistica Sì, è stato il 2002 e c'era questa possibilità di partecipare al Zotistica